Abbiamo pensato di fare uno spettacolo leggero che sia simpatico e che dia la possibilità ai cittadini di Teramo, di Giulianova, della nostra provincia, di partecipare e contribuire acquistando un biglietto al costo di 10 euro per realizzare, per riportare, per ridare di nuovo alla città di Giulianova, all'Istituto Castorani, un parco che è alle spalle del palazzo che purtroppo nel tempo è stato abbandonato ed era il parco dove giocavano tutti i bambini che erano all'interno dell'Istituto. L'invito è a partecipare sabato, ricordo alle ore 21, la sala dell'Annunziata, a Giulianova, a questo spettacolo con i girasoli, che è uno spettacolo teatrale comico e dialettale. Oggi è un istituto che ha all'interno un asilo nido e una scuola materna che sono fruibili a tutti, sono bellissimi, sono gestiti benissimo e poi c'è la parte che ha i bimbi, i bimbi, i bimbi ragazzi fino a 18 anni, da 0 a 18 anni, che non hanno famiglia o che sono purtroppo allontanati dalle famiglie e questo viene fatto sempre col cuore. Ci sono purtroppo tanti bambini della nostra provincia che sono qui, principalmente sono bambini che vengono portati in istituto, che sono a carico delle varie amministrazioni e queste affrontano un periodo durissimo di distacco alla famiglia e soprattutto lo fanno, per fortuna ci sono istituti come Castorani che fanno in modo che i bambini comunque vivano con serenità quanto il più possibile sia in questo distacco dal nucleo familiare.